Dal 12 al 16 agosto sono in programma 5 giorni di spettacoli, musica, buon cibo e tanto divertimento per le strade del centro di Spezzano con la 175esima edizione della Fiera di San Rocco, organizzata come ormai da 27 anni a questa parte dall'omonima associazione Eleongatto con il sostegno del comune di Fiorano e il supporto tecnico di GP20. Gli spettacoli si eteranno tutti sul palco allestito in piazza Falcone e Borsellino. Iniziamo il 12, sabato 12, che ci saranno, non siamo mica gli americani, una cover band di Vasco Rossi che tra l'altro Vasco Rossi, uno dei suoi primi concerti l'ha fatto proprio qua a Spezzano, quindi anche in ricordo di questo. Il 13 invece ci sarà un Amarcord che vedremo tutte le foto di questi quasi 30 anni di fiera commentate con comici, musicisti. Ci sarà la presentazione di un libro di una nostra conterranea qua a Spezzanese che ha fatto un libro. Il 14 invece ci sarà Ricky Portera, chitarrista di Lucio Dalla Tutta la Vita, fondatore degli Stadio. Diciamo che facciamo prima dire con chi non ha collaborato, degli artisti con quelli che ha collaborato. Si parla di Finardi, di Ronne, di Morandi, della Bertè, insomma un sacco di persone. Il 15 e il 16 agosto saranno presenti le tradizionali bancarelle lungo via statale, a cui mercoledì si aggiungerà un raduno di 500 d'epoca. La sera sono poi in programma una puntata di Andama Veg e un tuffo negli anni 60 con la Little Tony Family. E per il divertimento dei più giovani rimarrà allestito fino al 21 agosto il Luna Park nel piazzale del Bocciodromo. Per me come valore assoluto l'avventore trova una grande partecipazione generale, una grande curiosità. Di solito poi anche il periodo che è quello ferragostano, insomma le persone le vedi leggere, quindi già questo è un bel modo per stare insieme. Trovano veramente un programma di voglia di stare insieme, direi. La loro rappresenta un po' in tutto, le bancarelle, i quadri, la pittura. Insomma credo che sia veramente molto piacevole passare qui qualche giorno. Poi soprattutto i ricordi, tanti ricordi ma senza nostalgia, con un piacere del ricordo. E' peraltro un bellissimo esempio di collaborazione tra il pubblico e il privato, in questo caso l'associazionismo. Io tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare in modo particolare il presidente dell'associazione San Rocco, Roberto Montorsi e i suoi collaboratori, proprio perché è grazie a loro che l'amministrazione comunale, col proprio sostegno, può dare continuità a un'iniziativa che è molto prestata non solo dai fiorenesi, dagli spezzanesi, ma da persone anche dai comuni vicini, in quanto lo sappiamo è un'iniziativa questa nota, è molto frequentata anche da persone che vengono da fuori. L'evento conclusivo della fiera sarà sabato 2 settembre, con una serata dedicata ai Pink Floyd, sempre in piazza Falcone e Borsellino, dalle 21.30.